Grazie Leonardo, bellissima presentazione, all'ultima della mattinata, invito qui i relatori e anche il discussant, i soffiati. Ciao, ciao. Se ci sono domande dalla sala per il dottor Cutrone, per il dottor Loccante, vedo già le mani alzate, allora passiamo prima di... C'è qua sulla sinistra, via, sinistra. Intanto grazie per la diazio differenziale dell'esione del padiglione auricolare, bellissima davvero. Grazie. Allora ti volevo chiedere una cosa, se ha senso contemplare anche in questa diazio differenziale anche le DAC, le dermatite allergiche a contatto. Te lo dico perché ho tre figlie femmine e ogni tanto vedo un orecchino nuovo, perché adesso non si usa più uno solo, ne mettono una raffica di 4, 5, 6 e ogni volta che ne vedo uno nuovo dico speriamo che questo non gli dia. Anche perché poi possono dare prurito, possono magari sovrainfettarsi e quindi è secondo me una diazio da contemplare e se voi utilizzate anche i patch poi per poter capire se c'è magari qualche sostanza in particolare responsabile di questa reattività. Grazie. Ti confermo da papà, di figlie con orecchini multipli, elice, trago e ovunque coinvolti, che è così, diciamo che il rischio di dermatite da contatto c'è, c'è anche il rischio di infezioni ovviamente e via e via, addirittura delle condriti, di alterazione della cartilagine eccetera, per cui il piercing in varie zone non sarebbe ovviamente il massimo, anche se io lo preferisco i tatuaggi perché quanto meno i piercing sono rimovibili, mentre il tatuaggio come sapete è permanente. Per quanto riguarda il patch test, in realtà quasi sempre in queste situazioni sai già qual è responsabile, quindi è un po' diciamo come si può dire, è un plastico perché sai già di che cosa vai in cerca. Io lo uso quasi niente, in realtà devo dirti sinceramente, in altri centri lo usano molto di più, il patch test. Comunque sì, esistono anche le dermatite da contatto. Cioè questa che vi ho mostrato io, la eruzione giovanile primaverile, ha proprio delle vescicole che sono inconfondibili, cioè penso che adesso che le avete viste una volta nessuno potrà mai più sbagliare la diagnosi perché vengono in primavera sulla parte superiore dell'orecchio. Tenete presente che le orecchie, questo vale anche così per ampliare un attimo il discorso, sono una zona che non viene quasi mai, in cui non viene quasi mai obbligata il filtro solare d'estate. Cioè le mamme e i papà mettono la crema qui e mettono qui, ma in questa zona qui difficilmente la mettono. Invece questa è una zona che è proprio esposta per davanti e per dietro all'irraggiamento solare. Bene, se ci sono io, nell'attesa di qualche altra domanda, volevo chiederti, sempre nell'ambito delle dermatite acropposte, quella che spesso noi vediamo in primavera che è stata descritta come dermatite frizionale, che spesso ci mette in difficoltà, che elementi di contatto potrebbe avere con la gianotti crosti? Allora, la dermatite frizionale, l'ichenoide, primaverile, in realtà non viene considerata come una malattia a sé, diciamo, ma rientra, chiamiamolo così, come c'è lo spettro autistico, nello spettro della dermatite atopica eczema. Cioè sono bambini che di solito hanno magari un po' di secchezza retroauricolare, qualche altro segno minimo di dermatite atopica e in primavera fanno queste papulette che avete visto nella zona del dorso delle mani, ai gomiti e alle ginocchia. Allora, quella lì è una dermatite un pochino pruriginosa, anche questa con l'estate c'è un fenomeno di adattamento, più che altro è legato all'effetto positivo antinfiammatorio di raggi ultravioletti e risponde abbastanza al cortisone atopico. Tenete presente che sono papule, quindi risponde con più lentezza e con maggior quantità di cortisone rispetto all'ezema normale. Primaverile è anche, che può essere forse anche interessante così citare, l'APEC, esantema periflessurale simmetrico del bambino, che è quell'eruzione papulare che inizia monolateralmente nei bambini tra gli 1 e 5 anni, soprattutto femmine, soprattutto dal lato sinistro e che ha una stagionalità primaverile, verosimilmente legata alle infezioni virali del momento. Ultimamente si vedono anche degli episodi di APEC post-Covid, visto perché post-Covid è successo di tutto, anche in realtà il Covid, dal punto di vista dermatologico, si è comportato come un virus, quindi ci sono gli esantemi post-virali che conosciamo anche con il Covid. A proposito di Covid, ricordiamo all'inizio l'eritema per se non... Il Covid ha fatto tante cose, in dermatologia, ha fatto questo simil geloni che avete visto, che avete letto, che avete visto anche personalmente, che inizialmente non si capiva se erano realmente legati al Covid oppure no, nel senso che sia i tamponi sia la sierologia risultavano sempre negativi, tanto che si era ipotizzato che fosse la condizione di immobilità legata al lockdown, dopodiché invece si è capito che è una risposta legata all'immunità primitiva, si è visto nella prima ondata, poi è scomparso durante l'estate, poi si sono rivisti anche durante le ondate successive. Attualmente in questa fase qui non si vedono. Non si vedono. Bene, c'è qualche domanda per... ma il dottor Valletta aveva... Non vedo più, Leonardo? Grazie. No, no. Leonardo è nascosto là dietro, eccolo qua. Sì, Leonardo, bellissima relazione, sono stato proprio contento di averti sentito. Provo a fare una considerazione forse un po' collaterale per sentire cosa ne pensi. Si è percepita il modus operandi del neuropsichiatra infantile che tende a unificare tutti i diversi problemi, le diverse sfumature, le diverse comorbidità, diciamo così, della psichiatria del bambino. Ora, la mia esperienza è che nel momento della transizione, questa alla psichiatria dell'adulto, questa tendenza unificatrice in realtà trova difficoltà ad essere accolta e necessita, perché ho la sensazione che la psichiatria dell'adulto necessiti di uno spacchettamento di questi aspetti. Non so se mi sono spiegato. Riesci a far transitare l'adolescente nella sua complessità di ansia, di depressione, ad un'unica figura psichiatrica dell'adulto che ne prenda, come fa lo psichiatra infantile, il tutto insieme e lo porti avanti nell'età adulta o c'è difficoltà? Sì, sì, grazie per la domanda perché è un tema abbastanza discusso, il tema della transizione, del passaggio età adolescenziale all'età adulta con il collega della psichiatria. C'è un problema, il collega della psichiatria ha una formazione molto orientata rispetto al neuropsichiatra al disturbo del pensiero, per cui tende a fare una prima suddivisione o si trattano di disturbi del pensiero per cui è terra loro, oppure se vedono una condizione in cui il pensiero è oligofrenico, basso, tende a diventare terra della disabilità. Quindi c'è questo primo, purtroppo, questa suddivisione. Per quanto riguarda il disturbo del pensiero, effettivamente lo psichiatra fa molta più fatica a cogliere quelli che sono gli aspetti più, chiamiamoli, somatici che vi ho descritto, questa visione più anche che si accompagna dal punto di vista fisico. Soprattutto in questi ultimi anni, con l'Istituto Superiore di Sanità che ha promosso tutta questa attività di passaggio, di formazione, di collaborazione tra neuropsichiatrie riguardo ai disturbi dello spettro autistico, secondo me sta favorendo sempre di più anche nel mondo della psichiatria un modo di vedere, di riconsiderare il paziente diverso. Infatti sabato prossimo siamo ad Arezzo con psichiatri e urologi a parlare dei disturbi della minzione nell'autismo. Quindi capite che si sta, questo mondo si sta aprendo, secondo me si sta entrando in un'altra fascia di rivedere quello che è un po' il funzionamento fisico, non come una cosa sestante, separata dal funzionamento mentale. E anche gli psichiatri con fatica stanno cominciando ad approcciarsi a un nuovo modo di vedere. Prima, scusate per il tempo, io ho fatto riferimento alla sola terapia farmacologica. In realtà avevo delle slide dove parlavo della terapia cognitivo, comportamentale e ovviamente disturbi. Il primo approccio è quello di intervenire, soprattutto con l'intervento psicologico dimostrato ormai da vari studi, che il cognitivo comportamentale ha un'efficacia molto più elevata rispetto a quelli invece psicologici più tradizionali. Ovvio che quello è il primo passo. Ho fatto con voi un breve scursus dei farmaci, scusandomi ancora, e sono passato direttamente a quelli. C'è un'altra domanda, io volevo sempre prestare, e dopo concludiamolo in questo ambito, io un chiarimento da te Leonardo. Tu hai associato l'ansia e depressione quasi sempre a dei disturbi del neurosviluppo, se non ho capito male. Volevo sapere qual è l'incidenza, se ci sono poi bambini nel nostro quotidiano che possono avere ansia e depressione non reattiva magari, ma più strutturata, senza che abbiano necessariamente un disturbo del neurosviluppo più o meno evidente. Allora, le aree che regolano lo stato motivazionale, lo stato di, diciamo, che calibrano il livello di partecipazione che una persona deve avere sono le aree del sistema limbico, soprattutto gli ipocampi, l'amigdala, che sono aree ben rappresentate a livello, perché hanno rapporti stretti. Quindi sicuramente possono esistere, diciamo, delle condizioni in cui queste aree, che comunque hanno una funzione importantissima nella memoria, perché le aree ipocampali hanno un ruolo molto importante della memoria, e il calibraggio delle emozioni viaggia sul reclutamento delle esperienze precedenti. Possiamo avere dei deficit più puliti, che possono essere a carico dell'umore e dell'ansia, ma che, diciamo, tendono ad avere una risposta migliore con trattamenti anche sul piano di una regolazione e organizzazione fornita da uno psicologo, soprattutto con interventi cognitivo-comportamentali. Le condizioni che invece si accompagnano a un disfunzionamento, fra virgolette, perché parliamo di disfunzionamento, ma perché queste persone vivono in un mondo dove non hanno le loro caratteristiche, dove la maggior parte delle persone non hanno le loro caratteristiche, le disfunzioni, come potete ben capire, provocano ancora di più un disfunzionamento sul piano della sincronizzazione della risposta, della risposta armonica, della risposta equilibrata. Perché? Perché ci si creano degli squilibri che non permettono un'autoregolazione, cioè una tarattura rapida a seconda delle diverse. Per cui abbiamo delle reazioni anomale, impulsive, di irritabilità, che è più frequente, che si associa all'ansia. Però esistono effettivamente degli stati d'ansia che sono reattivi, stati di allerta un po' più accentuati, dovute al fatto che, per esempio, dobbiamo affrontare un esame all'università, come è successo a tutti noi, e che per quel periodo in cui avevamo un carico maggiore siamo andati in bagno dieci volte di più, abbiamo pisciato venti volte di più, abbiamo fagocitato cibo molto di più, perché sono sintomi che possono accompagnarsi a uno stato di ansia reattivo. Quando c'è un'altra condizione sotto, ed è nella maggior parte dei casi, questa diventa un'ansia che arriva alla neuropsichiatria, molto frequentemente. Beh, c'è un'altra domanda, altre due, anche se sei stato molto chiaro. Io, è un commento più che altro, mi piacerebbe avere il suo punto di vista, ho trovato una forte corrispondenza tra la descrizione della sindrome da fatica cronica che ha fatto lei e la mia presentazione precedente sul long covid, cosa che, peraltro, la mia idea è che proprio il long covid sia una sindrome da fatica cronica post-covid. Sappiamo che le sindrome da fatica cronica spesso sono associate a infezioni virali, in questo caso col covid siamo stati avvantaggiati che era l'unico virus circolante, quindi mi affascinava anche, si collega bene con il suo commento precedente, il fatto che addirittura anche lei li tratta con microelementi o addirittura con immunoglobuline nelle riacutizzazioni che usiamo, per esempio, nelle Kawasaki, nelle sindrome infiammatorie croniche, si collega con la teoria del connettivo OMA e quanto io ho detto per l'infiammazione endoteliale cronica prima. Quindi, appunto, mi sembra che sia un modello che va molto di pari passo e che possa un po' espandere proprio tutta la nostra conoscenza verso le sindrome infiammatorie croniche e qui rafforza la necessità di una maggiore collaborazione tra psichiatra e neopsichiatra e internista perché probabilmente c'è qualcosa che ci unisce molto di più in queste patologie. Sì, io nella mia esperienza, però, non è un'esperienza di clinico internistico, cioè nel senso di oriomatologo, immunologo, eccetera, riscontro che il, diciamo, indipendentemente fra virgolette la chiamo la bestia che può essere il Covid o il citomegalovirus, il micoplasma, tutte quelle che poi andiamo a ricercare soprattutto nelle condizioni di sindrome di affaticamento cronico per escludere, quello che determina un affaticamento è il processo infiammatorio. Lo riportano anche nelle condizioni in cui ci sono delle infezioni che scatenano probabilmente una cascata, adesso mi trovate, non sono più così fresco di medicina, di immunologia, anche se me la guardo ogni tanto un po', però scatenano delle reazioni, tutto un sistema che va a cercare di riparazione ma che ha un suo effetto un po' destabilizzante sulla, diciamo, la compensazione da parte anche somatica. Io ho un po' l'impressione che ci sia questo effetto più legato al processo infiammatorio a volte che alla singolo specifico virus o batteria. C'è lo spazio per l'ultima domanda, Donnella? Devo fare soltanto una considerazione in questo senso. Io come pediatra di famiglia ho notato, ovviamente come tutti noi, nel post-covid un aumento di ansia, depressione, nei bambini, nei adolescenti in particolare, ma anche nei bambini più piccoli. Ma quello che mi sta sconcertando un po' in questi ultimi periodi è l'aumento impressionante di anoressia mentale nelle femmine. Di? Scusi? Anoressia mentale. C'è un'esplosione di casi di anoressia mentale nelle femmine. Io che, voglio dire, tutti noi abbiamo avuto qualche caso ogni tanto, ma in questi ultimi periodi è veramente un'esplosione per quanto riguarda la mia esperienza. Non so, volevo chiedere se... Sì, effettivamente, diciamo il primo covid, io lo chiamo il primo covid, rispetto al secondo covid, soprattutto nelle condizioni in cui c'è un disturbo del neurosviluppo sotto, tipo una tendenza, l'affaticamento, una tendenza alla ruminazione, o una reazione di cui c'è una disregolazione, come nella DHD affaticante. Il fatto che ci sia una prima reazione, tutti aderiscono abbastanza bene. Il fatto che questa si protragga nel tempo, cioè di venti mesi o anni, come è successo, porta la persona che ha una difficoltà, soprattutto nel poter dare una lettura, cioè una spiegazione e darsi una motivazione su come la può gestire, perché è in difficoltà per un disturbo del neurosviluppo, allo scompenso. Questa è la mia risposta. Per cui il secondo covid e il terzo ha praticamente... Poi c'è anche un fattore culturale. La persona che causa covid, soprattutto adolescente, bambino e adolescente, che ha sviluppato un'ipertrofia verso l'uso dell'oggetto, in questo caso programmi, computer, tutta l'elettronica, fa fatica a un certo punto, ma che è una caratteristica, sarebbe anche un meccanismo fisiologico naturale. Inizia un'attività, come tutti noi, cerchiamo di protrarla, perché questa attività diventa, dal punto di vista esperienziale, produttiva. In età pediatrica, in età adolescenziale, iniziare un'attività, come ha comportato quella di stare in casa, chiuso, eccetera, che era rifarsi a continuamente ogni giorno, per totte ore, crea una sorta, permettetemi la parola, abitudine, da cui la persona, soprattutto se hanno poi dei tratti che ho brevemente descritti, non riescono più a farne meno. infatti abbiamo avuto anche un incremento notevole di disturbi, di, chiamiamoli, ossessivi, di ridotta, diciamo, di estrema aderenza a questo tipo di attività, con famiglie esasperate, perché non riescono più a ritornare indietro. Per quanto riguarda l'anoressia, non so se c'è anche la Gaudino, qui ho relatrice in questi giorni, con la Gaudino condividiamo un gruppo interdisciplinare dedicato proprio in particolare alle emergenze psichiatriche, ma anche al disturbo del comportamento alimentare, c'è, ma come per tanti altri, un netto incremento. Cosa è legato questo incremento? Sono particolarmente, nella maggior parte dei casi, delle ragazzine perfezioniste che hanno bisogno, nel disturbo del comportamento alimentare, che hanno bisogno di aderire a uno schema abbastanza rigido per poter mantenere un loro stato di equilibrio. Il fatto che ci sia ridotto, sia venuto meno, tutto una, diciamo, li ha portate a ipertrofizzare questa tendenza rigida, chiamiamola così, che è molto più tipica nel sesso femminile, verso l'alimentazione. Quindi arrivano queste ragazzine che hanno mangiato 300 calorie e devono fare esercizio per spenderne 340. allora sanno, molto intelligenti, perfezioniste, sanno che fare 10 scadini, 10 volte, comporta un dispendio di tot. E sono di una tale schematicità da cui non riescono proprio poi a uscire che devono farlo, ma lo fanno anche in reparto, girano con questa, il sondino, perché a volte arrivano appunto e girano, fanno i giri. Noi abbiamo l'ospedale un po' l'americana, c'è il corridoio largo e il corridoio stretto. Preferiscono ovviamente quello largo e continuano a fare il giro, le incontri 30 volte, perché devono, malgrado sia in un ambiente ospedaliero in cui stanno attuando la cura, devono mantenere il loro schema dal cui loro dicono faccio molta fatica a uscire, lo verbalizzano, si coglie che loro non possono pensare diversamente. e il covid è sicuramente aiutato. Bene, ringraziamo i relatori e do la parola ai presidenti di sessione per la chiusura. Bene, grazie, siamo arrivati alla fine di questa bella mattinata impegnativa che ci ha presentato attraverso casi clinici e soprattutto delle immagini una situazione e delle importanti novità, degli spunti anche sul long covid e abbiamo chiuso poi con Leonardo in merito al percorso della mente e del corpo. Un saluto a tutti, Enrico, grazie a tutti, buona giornata e buon proseguimento di lavori.